Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Final Fantasy 7 Rebirth e in questo video andremo a vedere una missione secondaria. Siamo appena entrati nel capitolo 12, una volta entrati nel dodicesimo capitolo avrete la possibilità di spostarvi con il viaggio veloce dovunque voi vogliate. L'importante ovviamente è che come nel caso qui della prateria voi andiate, vedete, su un punto dove c'è scritto appunto spostamento rapido e potete farlo veramente in tutte le zone della mappa. Quindi adesso tutta la mappa è liberamente accessibile finalmente quindi non ci dobbiamo spostare sì col viaggio veloce ma solo in determinati punti per poterci spostare da una regione all'altra. Per cui in questo video andremo a vedere una missione secondaria, vi lascio al video tolgo la camma così se volete vi potete anche gustare i filmati visto che magari ci sono anche delle cose da rispondere e via dicendo ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, commentare, condividere, lasciare like e cogliamo l'occasione per ringraziare di cuore tutti gli abbonati al canale, tutti super grazie, vi lascio al video. Collapse, I'll be fine. Heading out? On patrol. Got a slightly troubling report. But not troubling enough to let us go with her. I'm captain. It just makes sense for me to go. Yeah, but not by yourself. We're talking in circles. If I may, as you can tell by looking at him, Cloud here has a lot of experience taking care of trouble. So, why don't you send him on patrol instead? Don't worry, I'll go. Give you time to talk things over. What do you think? Okay, then, if you've got time to spare. Recently, folks have spotted some foul-looking fiends outside the village. I want you to head to the observation tower. Take a look around. See if you notice anything suspicious. Just leave it to him. Okay, let's go. It's beautiful. No time for sightseeing. Activity over there. Let's go. All set. Okay. Alright. We're good. All set. Grazie a tutti. 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 Yeah? Grazie a tutti.